Dove sia il problema di questo gioco Allora, quello che penso io Perché fino a un mese fa È passato un mese dal mio ultimo video Magic fa schifo, credo di sì Ci guardo un attimo Perché l'ho fatto pre-ban No, un mese è passato Eh, ragazzi Magic fa ancora schifo Sono andata con Pai Blitzk Eh, io però Fino a un mese fa pensavo che il problema fosse Il metagame dei vari formati Tant'è che in mezzo è arrivata una ban Che ha toccato tutti i formati Eh, però ragazzi Magic fa ancora schifo Eh, non è Penso Se devo pensare a un problema Credo sia tutto dovuto al fatto che Arrivino troppe stampe al gioco Ed è controllato zero in questo momento Ma ci sta perché Se tu mi metti otto edizioni in un anno Loro in questo momento staranno playtestando Per l'edizione che deve uscire a settembre Dell'anno prossimo, immagino Le prossime edizioni sono già tutte preparate Però tu che metagame stai playtestando? Cioè magari stai giocando adesso Con Dici, ok, questa carta può entrare in Energy Questa carta può entrare in Mark Tide Questa carta può entrare in Goal Powers In standard E però da qua a sei mesi Ci sono sei edizioni in mezzo E quindi Scusate, di più sei mesi Da qua a un anno ci sono Sei edizioni in mezzo Otto edizioni in mezzo E quindi non sono semplicemente riusciti A playtestare bene Perché hanno playtestato un metagame a caso Non lo so È come se in questo momento Prendessimo Una figurina nuova Ocelot Pride E la playtestassimo nel 2018 E diciamo Boh, sì, è un po' troppo forte Snowball Non lo è È gestita molto bene da Electrolisi Io Credo che un grande problema sia questo Al momento di questo gioco Escono davvero troppe carte E loro non riescono a starci dietro Non Non i giocatori Perché poi i giocatori In un modo o nell'altro Si devono adottare per forza Però ad esempio Un'edizione come Blombarrow A che cazzo serve? Non c'è un pro tour dentro Non c'è Un evento Non c'è la season standard A cosa serve Blombarrow come edizione? A me sembra davvero gettata così Inutile Buttata in mezzo Tanto per Per vendere prodotto anche in estate Tralasciando poi Che Magic è stato Cioè il Modern Ad esempio Dove era Metà season del Modern È stata comunque un playable Per colpa di Nadu Non lo so Però Dashboard dovrebbe avere il Vegas Come evento Quindi lo capisco Perché poi a ottobre c'è Vegas E quindi vuoi Vuoi dare il tempo di playtestare L'edizione Lo comprendo perché deve uscire Però In questo momento In Magic Escono Mi pare Sei edizioni l'anno Di cui cinque Entrano in standard E Però Solo quattro di questi Hanno il pro tour Quindi due di queste Sono inutili Completamente inutili E dopo di che Ci sono anche Delle edizioni speciali Tipo Assassin's Creed Che non serve assolutamente A niente Come edizione Fatta così Cioè mi piace l'idea Che ci sia l'edizione Su Assassin's Creed Perché tanto ormai La lore è andata a fanculo Di sto gioco Però mettimela In un'edizione standard Me lo metti Come edizione standard Mi fai Una storia particolare Non lo so Per qualche motivo X o Y E gioco il mio X auditore da Firenze Va bene Chia un po' Come hanno fatto Con Lord of the Ring Che ha sostituito L'MH E mi va bene Se me la sviluppi In questa maniera Gettata così Per nessun motivo Come è stato Assassin's Creed Come è stato L'altra edizione Si chiamava Aftermath Mi pare Che aveva un concept simile Ragazzi Come sono DLC Delle edizioni Queste Che merda La prima cosa Che mi fa l'idea È che 5 anni Che i prodotti Sono troppi Ogni 6 mesi Di chiaro Che comprono le Ma secondo me Le espansioni Devono essere 4 Ma perché tu hai scelto Che i prodotti Sono 4 Quindi le edizioni utili Sono 4 Tutto il resto Non serve a niente E poi Non c'è neanche più Secondo me Quell'attesa Di dire Voglio andare a fare Il pre-release Perché mi ricordo Che quando avevo iniziato A giocare Il pre-release Era molto divertente Come evento Perché ce n'era uno Ogni 3 mesi E adesso Che c'è un pre-release Al mese Io non ci vado Ad esempio Perché tanto Esce questa edizione Però Tra due settimane Esce un'altra edizione Ancora E siccome questo È uno dei problemi Troppe Carte che escono Fanno sì che Innanzitutto I player si stufino Poi il playtest È brutto Il loro playtest È scarso E Un altro grave problema In questo momento Di buco Senza i GP Perché ci hanno tolto Quelli Della Della legacy Però Non ci hanno neanche Redato I GP nuovi Subito Quindi abbiamo fatto Sei mesi In questo momento Da Da maggio Ha finito la legacy Giusto? Sì Maggio è stato a Napoli Che è stato l'ultimo evento Della legacy Ragazzi Da giugno a novembre Non c'è stato Un evento di magic Che non c'è un evento Di magic In questo periodo Da Anche post Lille Ci sarà Comunque ci saranno Altri 4 mesi vuoti E poi ci saranno Praga E Utrecht E però ragazzi Cioè Sinceramente Aver giocato 5 eventi In un anno Un po' mi scoccia Cioè mi sembrano pochini Se Ho 5 eventi In un anno Tutto il resto Non ha appeal I negozi Non hanno appeal Non c'è motivo Per andare a giocare Al negozio Se non Farsi il sangue amaro Per gli RCQ Ma perché Hai sbagliato A playtestare Blombaro E questo È stato il tuo errore Tu hai playtestato Un'edizione Che non serve a niente Poi non Non si capisce Esattamente Qual è la tua linea Dei formati In questo momento Il Pioneer Non ha senso Di esistere Non c'è nessun evento La season è durata Due settimane Del Pioneer Era del Pioneer Che è durata due settimane La season è dello standard Forse del Pioneer Ed è un formato di troppo Penso che Un altro problema Di questo gioco È che ci siano Troppi formati Non capisco perché ci sia differenza Tra Pioneer Historic E quello di Arena Rendi tutte le carte legali In qualche modo Ficcale dentro In un'edizione Blocco unica Non lo so Fai un'edizione Incredibile Dove ci metti Tutte le carte Dentro del Pioneer Che non esistono In questo momento E E risolvi anche Questo problema 14 GB Di download Explorer Il formato che è uguale Al Pioneer Pioneer Explorer Ok Non è historic Oppure L'Alchemy Perché esiste L'Alchemy È uno standard Di cui ti accorgi Degli errori Le carte di Arena Digitali di Arena A cosa servono Qual è il tuo obiettivo Creare confusione Se uno passa Da Arena a Real Vuoi rendere I giochi diversi Perché a volte Sembra che vuoi rendere Il gioco diverso Però poi l'evento A cui ti qualifichi È lo stesso Real Cioè Non esiste C'è il Portour di Arena Che è il Non mi ricordo il nome Però poi Quell'evento Qualifica il Portour Cartaceo Magic Online Ha Delle funzioni diverse So che ad esempio Andare a punti vita Infinity Non è possibile Però Non capisco Quale sia il loro obiettivo In questo momento Adesso Hai voluto far uscire Il Commander 1v1 Su Magic Online Perché E poi non l'hai spinto L'hai fatto uscire E io mi aspettavo Che Uscisse il Commander 1v1 Aspetti un mese In cui la gente Lo prova E poi butti fuori Le challenge E invece L'hanno fatto uscire E basta E poi non c'è più Nessun evento Quindi La gente l'ha provato Il primo mese E dopo hai perso l'hype Perché L'hai provato Sì abbiamo fatto La nostra league Ci siamo divertiti E Basta Tanto questo formato Non ha senso Di essere play testato Quindi Non Non lo so Credo che questi Poi siano solo Una piccola parte Di problemi Per cui questo gioco È brutto Anche il fatto Che Tutto Il prodotto Non si regola In base alle vittorie Del torneo Che non è effettivamente Una colpa loro Però Tutti gli altri giochi In questo momento Stanno dando delle promo Fantastiche A ogni evento Che uno vince L'Utasaga È un inizio Data gli showdown Però L'evento showdown Del negozio È un evento Inutile Dai una promo A un R.C.Q. Che valga Dei soldi Dai lì La promo Con su scritto Winner Non lo so Qualcosa di simile Che abbia un senso E la fai valere Dei soldi Un oggetto Unico Oppure Se organizzi Il Napoli Dai delle promuovere Speciali Che valgano Dei soldi Che ti facciano fare Quelle più 200 Più 300 euro Rispetto al Gideon Del cazzo Che vale 10 euro La carta Perché non hanno fatto Perché non c'è La carta speciale Del Vox Champion Sono arrabbiatissimo Così Ragazzi Per promuovere Le standard Io non credo Perché È l'ennesimo Evento Evento Più Soprattutto Per il fatto Che lo standard È il formato Più giocato Di arena Quindi su magic online Perché lo stai promuovendo In negozio E quindi vuoi che la gente Giochi su arena Però hai messo Le carte speciali Su arena Che ci sono solo lì Quindi è probabile Che la gente Che gioca a quei formati Anche se prova lo standard Poi non andrà a giocare Lo standard Di negozio E diventa difficile Ragazzi Tutta questa gestione E voi direte Sono un'azienda Multimilionaria Sapranno quello Che stanno facendo Forse sì Però io non lo capisco Ah Gli store championship Con l'impario Il tappetino Vuoi un Un cassetto Di tappetini Sono una quarantina Di tappetini E solo perché Poi a un certo punto Mi sono messo a venderli Perché Non lo so Io ho il playmat Poi uno Ne giochi Non sono fan Del playmat Date una promo Invece che il playmat Date una bella promo Diventa difficile E per i negozianti Ehm Vabbè Tralasciando che Il caso negozianti Poi mi aveva fatto Molto ridere Avevo letto questo tweet Di Lamentela Dove il negozio Fece un evento Finto Ehm In Inghilterra E' successo questo E il negozio Aveva fatto un evento Finto per tenersi Lozza saga promo O qualcosa di simile Poi ci ho pensato Ma questa E' la prassi In Italia In Italia Se organizzi Un evento vero Sei un idiota Sono un collezionista Di playmat Ne vuoi un carrello? E' vero Non ho un'azienda Multimillionaria Ho solo le lamentele Non ve lo so dire Il power level Delle carte In questo momento E' talmente alto Che non Non lo so Se c'è un modo Per correggere Questo gioco Pensavo che La banlist Sarebbe bastata E invece No Ha solo Cambiato il focus Da Nadu A White Red In Pioneer Da Avzan A Malia A Phoenix Però A questo punto Penso che Se dovessi Bannare qualcosa Di Boros Sale Breccia Se dovessi Bannare qualcosa Da Breccia Il Tar One Diventa Non lo so Gsk Control Diventa Mullet Titan Non lo so E Questa è una cosa Che non verrà mai risolta E anche Dopo il Dicentesimo Dappetino Secondo se avrebbe una Restate Le list Cosa intendi Tipo il vintage Portare Secondo me Il problema Non sono le limitate Ragazzi Non Credo che L'ultima Banlist Abbia dimostrato Ampiamente Che non è Una banlist Che Che Fixa Ha questo problema E L'ultima Banlist Ha dimostrato Che qualsiasi cosa Tu fai Risagirà Qualcos'altro Perché in questo momento Il power level A talmente alto Che Ci sarà sempre Qualcosa di Problematico Io lo capisco Il discorso Il power level È troppo alto Smetto di giocare Passo a giocare Ad altri giochi Qualcosa di più divertente Di più stimolante Dove La partita Non si è decisa A turno 3 O a turno 2 Perché Ampè Raptor Ha girato bene Lo capisco E sono il primo Che in questo momento Sto valutando Di passare all'Orcana O comunque Gioco a Magic Ma gioco anche all'Orcana O One Piece Però One Piece Mi fa cagare Con i concept Però Non si fa Ragazzi Non si fixa Il formato è questo E sarà per sempre questo Il riassunto è fare meno cose E farle meglio E farle meglio In generale Sì Io non so se ci sia Un punto di ritorno Da questo spot Secondo me A questo punto La cosa migliore Che puoi fare È dire Il Modern Ha fatto la fine Del Legacy Lo lascio andare Così com'è Quello che ci esce fuori Ci esce fuori Mi concentro sul Pioneer Abbasso le edizioni Dello standard Io devo Controllare Che le carte Che entrino in Pioneer Non siano Inutilmente Rotte No Questa cosa Non è vero Che se fai meno cose Vendi meno cose Perché Ti pongo un esempio Ogni dieci giorni Faccio uscire Una nuova carta Che tu puoi comprare Probabilmente Me la comprerai Ogni dieci giorni Se facessi uscire Una carta Al giorno Tu comprerai Solo la carta Che ti serve O un prodotto Al giorno Ti comprerai solo Il prodotto Che ti serve Oppure Non lo comprerai Direttamente Perché non riesci A starci dietro Un numero di prodotti Credo che ci sia Un limite Però non so Non ho studiato marketing C'è qualcuno Qui che ha studiato marketing Potrebbe aiutarci In questa discussione A posto così Niente Sto registrando il video Poi lo ricarichiamo Su YouTube Perché queste sono Proprio le visual facili Ah lo voglio anche io No 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 Non voglio quello Cosa c'è? Ma stai registrando il video Ci metti a mangiare Eh va bene Mangio dopo Ciao Antonino Serran Eh sì Sono d'accordo Il commander Attaccati Eh beh Qualcuno ragazzi Compra ancora i commander Immagino di sì Però Quando uscivano Il commander all'anno Mi ricordo che la gente Comprava il set Di tutti i commander Adesso la gente Quanti commander compra Beh Non solo Non l'ho studiato Ma non ho idea Di cosa sia Questa è la mia Personale opinione Ricordo di tagliare il video Altrimenti il Delmo Si arrabbia Perché ho detto Che i formati di arena Fanno cagare Non so perché Si sia irritato L'ultima volta Io ho comprato Fall Out Perché sono fan di Fall Out Immagino che Quella serie di prodotti Funzioni esattamente Per questo motivo The One Ring Fall Out Assassin Creed Immagino che ci sia Molta gente Che abbia iniziato Perché quel prodotto Gli piace Non lo so Io mi arrampico Sui tetti E quindi adesso Voglio arrampicarmi Sui tetti Mentre gioco alle figurine Non so se non editi il video Si arrabbia Non tagliare quello che hai detto Non taglierò niente Un saluto al Delmo Che ci segue sempre Ma è ok Il commander spica Perché immagino Ci siano X carte dentro Che Tipo Barrow Golf E Però Non Non lo so Se X carte Del commander Continuano a spicare Penso che la gente Li veda Come un investimento Più che un Lo compro per giocare Comunque Storia Sento in dubbio E che ci sia ancora gente Che li compra Palate Anche perché Quando vendevo carte Ho proprio in testa Il Chi era il target Di quel prodotto E funzionava Effettivamente Molto bene Mi stavo solo chiedendo In base Cioè Ne escono davvero Tanti Adesso E Più che altro Perché Il Secondo me In questo momento Il formato più bello È il formato Col power level Più rotto Sulla carta Che è il vintage Il vintage A molti non piace E lo capisco A me piace molto Ha un power level Stravagante È fortissimo Il vintage Come In termini di power level Perché con una figurina Ottieni tre figurine E Però poi La carta focus Dice Gratis Counter Una carta Adesso Non voglio fare Promo ad altri cani Ma discussione Tra Ancestra E Non so Chi siano Nessuno dei due Sono dei content creator Indesa Ragazzi Mile Per quest'anno Di sub Io Blombaron Opposite 3 E Uno L'ho Regalato Io Penso Che tu Abbia Fatto Bene Però Non So Per Quanta Gente Li Giochi Secondo me Le carta Costo Zero Se Sono Risposte Rendono Il gioco Molto Bello Eh Se sono Problemi Sono D'accordo Che Non è divertente Cioè Non ho mai Sentito Nessuno Lamentarsi Di force Of Will Ecco E Io Penso Che Il Modern Invece Non Non Avrà Nessuna Evoluzione Se L'avrà Sarà Che Vengano Si Scambiano Dei Tire Due E E Se Anche Si Dovesse Creare Un Altro Mazzo Diventa C'è Baross Energy C'è Questo Mazzo E Il Nard Scenda I Tire Due Diventano Due No Nessuno Nessuno Ah Dici Il Gioco Di Carte Dante Guy Si Quel Gioco Fa Schifo Ah Vabbè Ok 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 Aspetta Lì Però È Un Formato In cui Hanno Bannato Mana Tight E Se Tu Di Rabbia Banni Mana Tight Forse Forse È un Problema Sì Lì L'ho Com'è Sato Che Se Sei Tu Il Trophy Leader Perché Non Posso Esserlo Anch'io Ancestral È Un Canale Youtube Andiamo a Cercare Su Youtube Ancestral Ancestral Allora Ho trovato tutto Eccetto un canale Di Magic Oggi Oggi Sembi Fabrizio La Mi Ammazzo Sando Melis Giocare a Magic Al Medios Che Garno Ancestral Red Hulk Ok Immagino che sia Un canale Prevalentemente Commander I primi 12 video Sono tutti Inerenti Al Commander Va bene E Più solo Che il Commander Sia una Community A parte Sono D'accordo Tu Ai Commander Puoi Proporre Qualsiasi Cosa Perché Tanto A loro Del gioco Non Interessa Perché Loro Regoleranno Il Loro Power Level Con Loro Gruppo Di Amici Quindi Non Devi Essere Tu A Occupartene Loro Regoleranno Direttamente Se una Carta Non La Vogliono Al Tavolo E Basta E Nessun Commander Vuole Giocare Con Nuove Persone Loro Vogliono Solo Giocare Con I Loro Amici E Non Ci Vedo Niente Di Male Anche Perché Chi È Che Vuole Giocare A Dei Giochi Da Tavolo Io Quindi Non Lo So Però Sì 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 Poi Magari Lo Recupero Con Il Vido E Va Bene E Questa Ma Poi I Commandaresti Si Basiano Su Power L'Area Il Fatto Di Soldi Questo È Vero Nessuno Dice Tutti I Soaring Sono Bannati Del Tavolo Perché Soaring Ce L'hanno Tutti Però Della Mana Crypt Ci Si Lamenta È Curioso Questa Cosa Ricordo Di questa Discussione In cui Minecraft Non va bene Ma so Ring Si Boh Vabbè Comunque Stavo parlando Di competitive Io Quindi Non Per cortesia Delmo Non rispondermi A questo Video Dicendo Che Mind Alchemy È Un Formato Bello Per cortesia Per cortesia Stiamo Parlando Di giocare A Magic Qui Non su Magic Arena Magic Cartaccio Dove Si giocano Gli RCQ E Pro Tour E Va bene Non ho Più niente Da dire